Si definisce deluso dall'atteggiamento ma spiega che non farà mancare la propria collaborazione. Quella del sindaco Giuseppe Sala nei confronti di Regione Lombardia è una critica più sulla forma che sulla sostanza dell'istituzione della zona arancione rafforzata che da oggi regola attività e spostamenti di tutti i cittadini lombardi. Discuto un po' come la Lombardia mantiene i rapporti istituzionali perché ieri la convocazione ai sindaci è stata fatta a cose fatte. Noi abbiamo provato a fare delle osservazioni ma ci hanno detto che era già tutto definito, la prossima volta ci mandano in una mail. Ma d'altro canto questo è un po' lo stile di Regione Lombardia che va appunto da questo finto coinvolgimento ad andare in procura sui fatti della Darsena. Io penso che con tutti gli errori che hanno fatto un po' più di umiltà non guasterebbe. Certamente sono molto deluso da come Regione Lombardia intende i rapporti istituzionali. Nonostante le critiche tuttavia il sindaco ha affermato che Palazzo Marino sarà sempre una sponda affidabile. Per il bene dei cittadini noi continueremo invece a collaborare per esempio sul piano vaccinale. Mi pare che anche l'assessore Moratti l'abbia sottolineato. Stiamo mettendo a disposizione spazi come per esempio il Museo della Scienza e della Tecnologia, la Fiera, la Fabrica del Vapore. Quindi quello che tecnicamente possiamo fare per il bene dei cittadini lo faremo. Con la nuova fascia di rischio che da oggi copre tutta la Regione, il dibattito si è concentrato in larga parte sulle scuole e sulla loro chiusura da un giorno con l'altro. Tecnicamente credo che abbiano analisi dal punto di vista medico-scientifico che portano a chiusura. Certo una chiusura così repentina mette in difficoltà le famiglie. Ma le preoccupazioni riguardano anche il weekend che sta per iniziare con il rischio di rivedere gli assembramenti della scorsa settimana. Domani mattina vedrò il prefetto e questore, domani mattina in prefettura. Credo che la via sia quella di cercare di contingentare un po' di spazi. Però per esempio parliamo della Darsena ma ieri tanti mi segnalavano guarda cosa sta succedendo con la Nessa Lorenzo. Quindi dobbiamo partire da un concetto. Se tanti vogliono stare fuori noi isoliamo una parte e si spostano dall'altra. Non è semplice e poi io capisco che i cittadini facciano fatica ad accettare che c'è un limite nelle forze dell'ordine. Però questa è la realtà.